Noi siamo orgogliosi e donerati di essere per l'ottavo anno consecutivo partner della Mossa del Cinema di Venezia. Questa partnership ci consente di sottolineare ancora di più il legame fortissimo che c'è tra il nostro brand, l'Exus e il mondo dell'arte e della cultura. In particolare con il cinema abbiamo dei valori fondanti, degli elementi che ci contraddistinguono e che fanno una similitudine completa e perfetta con il cinema. Sto parlando della qualità, della tecnologia e dell'artigianalità. Qualità nei nostri prodotti ma anche qualità nei film che vedremo nelle sale della mostra. Tecnologia che per noi è messa all'utilizzo delle persone con i nostri veicoli e nel cinema spinge sempre più avanti la capacità di raccontare. E artigianalità per quanto riguarda ciò che le maestranze nel cinema riescono a fare per farci sognare. E nel nostro caso i nostri maestri, le nostre persone che producono i nostri veicoli appunto di una qualità elevatissima. Venezia e la mostra del cinema sono una piattaforma perfetta per dare lustro e mettere in evidenza e raccontare i nostri prodotti. È un luogo ideale, un luogo estremamente glamour. Il punto, forse sono di parte, ma è uno dei punti nel mondo che ci permette al meglio di raccontare quella che è la nostra promessa di brand. Ovvero quello di offrire esperienze straordinarie. Trasformare ogni volta l'ordinario in straordinario. Il Bix, il nostro nuovo SUV compatto di segmento B che abbiamo lanciato quest'anno e che è nelle strade da maggio, direi, sta avendo successo oltre ogni aspettativa. Siamo estremamente soddisfatti. È un prodotto che ci sta consentendo di farci conoscere ancora di più come brand. Ci sta avvicinando a una quintela che prima non riuscivamo a raggiungere, la quintela più giovane, fatta di una mix di donne ancora maggiore. Quindi un successo incredibile, un successo come dicevo, oltre le aspettative. A Venezia avremo l'opportunità con la nostra flotta di 35 vetture elettrificate di accompagnare sul red carpet della mostra celebrity, attori, registi e tutti gli invitati VIP della mostra. Per noi è un'opportunità incredibile perché avremo un palcoscenico perfetto per mostrare la nostra gamma che va da veicoli ibridi, full hybrid, come l'LBX, fino a veicoli 100% a batteria come l'RZ. Avremo anche l'opportunità di avere ai piedi del red carpet i nostri tre modelli più rappresentativi. L'LBX, un veicolo full hybrid SUV compatto, l'NX plug-in che è il veicolo con il quale stiamo facendo un ulteriore passo nella direzione della mobilità sostenibile elettrica e l'RX, il nostro modello più iconico che abbiamo attualmente in gamma. Alla mostra abbiamo, come dicevo, una flotta di 35 vetture che rappresentano completamente il nostro line-up. Un line-up che è fatto di vetture con motorizzazioni completamente differenti, sempre elettrificate. Si va da un'elettrificazione full hybrid fino al 100% elettrica dell'RZ. Full hybrid che abbiamo in una versione quinta generazione come quella dell'LBX. Abbiamo un ibrido ad alte performance con l'RX Turbo, ma abbiamo anche una tecnologia, un powertrain plug-in che equipaggia sia l'NX che l'RX che ci consente di fare una transizione verso una mobilità sempre più 100% elettrica che è un po' la direzione verso cui dobbiamo andare, verso cui il mercato dovrà spingersi e dove il 2035 aspetta tutti perché sarà obbligatorio avere il line-up 100% elettrico. Grazie. Grazie. Grazie.